Poco prima del suo ultimo concerto Mambo Rosco ha incontrato dei ragazzi marocchini fuori dal locale Che lo fermano per spiegargli che non sono stati fatti entrare all'interno del concerto Perché appunto marocchini Chiaramente questa cosa qui non è confermata ma è solamente la versione raccontata Mambo li ha presi a cuore, li ha fatti entrare con lui nel backstage E anzi dopo salito sul palco ha mostrato anche una maglia con la bandiera del Marocco sopra Non aggiungo altro ma vi lascio filmati Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea lo studio Siamo ragazzi in presione Non ci vogliono fare entrare Stiamo in ticapetano Dov'è il retto? Entriamo tutti da dietro Giuramelo Andiamo Sempre il retto Giuramelo Giuramelo